Tra le sue deleghe c'è anche lo sport. Cosa è stato realizzato in questi anni? In questi anni come politica dello sport c'era un po' tutto da inventarsi perché dieci anni fa non c'era niente. C'era soltanto una mera gestione patriarcale delle palestre scolastiche e null'altro. Io mi ricordo dieci anni fa quando appena eletti il sindaco ci chiese di inventare qualcosa. Mi chiamò e mi disse Paolo bisogna fare qualcosa per lo sport, ti devi inventare qualcosa per una manifestazione che io voglio mettere nella notte bianca. E insieme a lui e agli altri assessori ci siamo inventati la notte bianca dello sport, il chilometro dello sport. E è stato un successo perché da quella idea in realtà nasce anche il confronto continuo con tutte le associazioni sportive che ha dato pari dignità ad ogni tipo di sport. Veramente, dal ping pong fino al calcio, dal pugilato al muaotai, dallo skate fino alla pallacanestro. Perché? Perché tutti gli sport facevano a gara per andare in onda sul lungomare. Dopodiché abbiamo continuato a parlarci con le associazioni e da lì è venuto fuori una serie anche di iniziative che sono durate per circa dieci anni dove le associazioni ci chiedevano di poter avere il patrocinio e qualche volta anche aiuto economico per fare le loro iniziative e per propagandare la loro attività e la loro specialità. Ed ecco che si sono manifestati campionati italiani, campionati addirittura europei, abbiamo avuto campionesse e campioni nel karate, nel ballo, nel taekwondo, nella muaotai, nel pugilato, ma anche in sport minori. Per cui una città dove si fa sport è sicuramente una città giovane, una città dove si fa sport è sicuramente una città dove anche il valore della socialità e se mi permettete anche della salute è un valore e comunque una città che fa sport è una città a cui ambiamo perché è una città che punta alla valorizzazione dei nostri giovani. Il Fiumicino è famoso anche per le maratone, visto la sua natura abbastanza pianeggiante. In dieci anni sono state svolte più di 25 gare podistiche ad alto livello, sono stati percorsi 400 chilometri, forse molti di più per maratone di altissimo livello con migliaia di partecipanti, ma allo stesso tempo anche a livello sociale abbiamo cercato di dare il nostro massimo e con le convenzioni fatte, con il lavoro fatto appunto con le associazioni sportive siamo riusciti in dieci anni a far fare, praticare sport a titolo gratuito a oltre 200 ragazzi provenienti dai servizi sociali che chiedevano solo ed esclusivamente di poter avere una socialità sportiva attiva e li abbiamo mandati a calcio quando era possibile, li abbiamo mandati a far nuoto quando era possibile, era desiderato ma anche pallacanestro, ma anche pallavolo, ma anche volley, beach tennis, li abbiamo mandati a far pugilato, muaotai tutte le specialità che ci potevano consentire un migliore approccio allo sport e una migliore socialità soprattutto per i ragazzi che erano dei ragazzi più fragili provenienti da segnalazioni dei servizi sociali C'è poi un progetto, primo nel Lazio, che riguarda la promozione della pratica sportiva all'interno delle scuole materne comunali ce ne può parlare? Beh, è un progetto quello ambizioso perché credo che Fimicino sia veramente all'avanguardia e che sicuramente nel Lazio siamo i primi che riescono a fare una cosa del genere ma credo anche in Italia siano molto pochi quelli, i comuni, che propongono per le proprie scuole dell'infanzia quindi parliamo di bambini tra i 3 e i 6 anni, un progetto di psicomotricità che cosa significa? Che i bambini delle nostre scuole, delle scuole comunali, faranno, stanno facendo già in realtà un progetto sperimentale un'ora circa di, diciamo, ginnastica, di movimento con degli specialisti del settore il progetto si chiama Favole in movimento e credetemi è veramente un bel vedere quando i ragazzi in palestra giocano facendo movimento, facendo anche giochi di ruolo e giochi di squadra giocando, semplicemente giocando imparano la praticità dei movimenti e soprattutto imparano anche una miglior aggregazione fra loro perché sono delle squadre, sono delle favole che danno dei ruoli ai bambini su percorsi specifici che ovviamente implicano dei movimenti specifici e quindi giocando imparano che il movimento è salute, che il movimento è aggregazione e ovviamente imparano a star meglio in una socialità più strutturata e meglio costruita